Una delle grandi questioni della città che finalmente si chiude. Con queste parole il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla sostenibilità con delega all'ambiente Aidi Morotti hanno annunciato l'avvio degli interventi di bonifica per l'area dell'ex AMGA. L'iter dei lavori, che aveva ricevuto il via libera anche da un'ordinanza del TAR vista l'assenza di modifiche alla destinazione urbanistica della zona, era stato annunciato qualche mese fa dall'amministrazione comunale. A causa della pandemia però il cronoprogramma aveva subito modifiche e slittamenti, ritardi che sono terminati nella giornata di ieri, quando l'ingresso dei camion nel segmento di via Morosini ha ufficialmente dato il via alle operazioni. Obiettivo degli interventi è la creazione di un nuovo polmone verde cittadino, con più di 20 specie verdi, 500 piante, oltre 200 alberi e un laghetto realizzato con le acque della falda purificate che servirà per il sostentamento del verde. Era un intervento che il quartiere ci chiedeva da tempo, la cittadinanza ci chiedeva da tempo, l'abbiamo promesso, ce lo siamo presi come impegno, abbiamo cercato al netto dei ritardi dovuti al Covid, abbiamo cercato di essere il più veloci possibili in quest'ultima fase. Il progetto è approvato, è tutto pronto e quindi stiamo partendo adesso con la bonifica. Come avete visto si sta impiantando il cantiere, i primi lavori saranno i lavori edili e chiaramente l'ultima parte sarà quella dedicata alla piantumazione dei vegetali e delle piante perché hanno un tempo loro in cui essere messe a dimora. A fine lavori che cosa ospiterà questa zona, quest'area? Per ora noi stiamo procedendo alla bonifica, per cui tutte le piante che sono messe a dimora hanno e avranno una loro funzione specifica nell'assorbire gli inquinanti del terreno, per cui per ora lasciamo lavorare le piante e poi vedremo. Per la fine di maggio dovremo essere alla fine dei lavori, poi ci saranno i collaudi, se non succede nessun piccolo imprevisto dovuto magari ai lavori stessi e a cosa troveremo una volta che verrà scoperchiato il telo che vedete qui dietro, però insomma entro maggio dovremo riuscire a essere alla fine e poi dopo a cominciare tutte le procedure che servono per avere i collaudi necessari. Questi lavori chiaramente erano nell'intenzione del comune da tanto tempo e ovviamente i residenti della zona e del quartiere hanno chiesto diversi incontri perché avevano necessità anche come cittadini di sentirsi un po' rassicurati su quella che era la volontà del comune di intervenire su quest'area che lo richiedeva da tempo, per cui abbiamo avuto diversi contatti, abbiamo cercato di rendere partecipe il consiglio di quartiere quanto più possibile per arrivare a questo risultato tenendo informato il più possibile le persone che sono qui residenti.